... Indietro! Non c'è posto per riempi in questo luogo di giustizia! Sono la mia famiglia! Papà, sono Cam, tuo figlio! Ti vedi? Ascolta papà, tutto a posto per la nave, tutto a posto per l'alco caricato! Pinguini, elefanti, di tutti e di più tutti gli animali, tutto a posto! Quando vuoi partiamo! Però, diciamo, no? Sei proprio sicuro che è proprio stasera che deve arrivare il giorno? Perché qua non vedo neanche una nuvola io, eh? Ma ti credo? Infatti ho portato l'ombrello, è già aperto perché è così per l'eventualità, io ti credo, eh! Quando vuoi papà, quando vuoi partiamo! Indietro! Non c'è posto per riempi in questo luogo di giustizia! Solo la mia famiglia! Papà, sono tuo figlio Cam! Sì, brutta cosa la mia famiglia, però, eh! Indietro! Non c'è posto per riempi in questo luogo di giustizia! Solo gli animali! Cioè, io dovevo salire che... Solo gli animali! Solo gli animali? Solo gli animali! Eh, sono un animale! Ehi, c'ho tutte le... Ah, voi sareste un animale! Eh, sono un animale! C'ho tutte le cose dell'animale, quindi si vede, c'ho tutte le... E che animale sareste? Cioè, sono un gufo! Un gufo? Eh, sono un gufo! E c'ho tutte le cose del gufo! Già ci stanno! Già ci stanno i gufici! Già ci stanno! Già ci stanno! Tutto un gufo! Sono una cazzella! Già ci stanno! Un elefante! Già ci stanno! Un rinoceronte! Già ci stanno! Un gatto! Già ci stanno! Un minollo! Un minollo! È solo un minollo! Si vede, no? C'ho tutte le cose del minollo! E che animale sarebbe il minollo? Che animale sarebbe il minollo, no? Eh, il minollo! Cioè, il minollo è minollo! Ci sono vari tipi di minolli! C'è il minollo quello più... Minollo degli altri, c'è quello più... Il minollo, no? Quello che fa... Sono un minollo! Sono un minollo! C'è il minollo! Cam! Cam! Oh papà, tutto a posto! Papà, ho cambiato l'opera, ho preso l'opera! Cam, senti tu un momento! Si! I minolli sono arrivati? I minolli? Eh! I minolli! Ah, i minolli! Eh, i minolli! E già ci stanno! Già ci stanno! Già ci stanno! Già ci stanno i minolli! Già ci stanno i minolli! Già ci stanno i minolli! E i rostocchi? E già ci stanno! Già ci stanno i rostocchi! Secondo me questo... Secondo me questo... Già ci stanno i minolli, Mosè, guardate! Sono Mosè! Chiamatemi Patriarca! No, Patriarca, guardate, io scherzavo! Voi siete una persona rispettabilissima! Qual è il mio Patriarca? Guardatemi salire! No, non posso! Non posso farvi salire! E allora uno non tiene le possibilità! Non è un animale! Non può salire! Deve stare qua! Non è possibile! Ma tenete tanto spazio! Tenete uno come fai! Ma dove è tanto spazio? Che ho la barca piena di animali! Ho le zebbre, i coccodrilli, i leoni, le giraffe, i pinguini, le rane... Scusate, Patriarca, avete detto coccodrilli? Certo! No, ma non per farmi fare di vostra, a me non me ne frega niente! Avete detto coccodrilli? Certo che ho detto coccodrilli! Cioè voi vi portate pure coccodrilli? E si capisce! Cocodrilli mica è un animale! Cocodrilli è infame? Ma tu gli è infame! Eh si sa, si sa! Cocodrilli è infame! Mica è un animale che uno lo mette là e dice Ah, voi porto coccodrilli! No! Cocodrilli è infame! E lo coccodrilli stava scritto pure sul giornale mentre venivo qua Scritto proprio che coccodrillo mangia patriarca! Eh, stava scritto! Stava pure una fotografia! E la cosa senza per togliere niente a voi! Guardate patriarca! C'era un patriarca alto due metri così! Ma vieni sei patriarca che questa... Ma vieni a fare un coccodrillo e zaa! Eh, se l'è mangiato tutto qua! Eh, quello che teneva pure la barba, i capelli e zaa! Se l'è mangiato tutto qua! E non gli fa schifo niente, coccodrilli! Mangiano come gli animali proprio, i coccodrilli! Non ve lo... E stavamo pure in buon rapporto! Sare, non è che diceva che non si potevano vedere, uscivano insieme con coccodrilli! Eh, no, non è che... Se non ve lo portate il coccodrillo, patrilla, fatemi salire! No, non vi faccio salire! Solo la mia famiglia! E per quello, fate tutte le cose in famiglia, fate! Ma io vorrei sapere perché la vostra famiglia sì e le altre famiglie no! E perché è giusto! E ma perché è giusto! E ma perché è giusto! Ma perché è giusto! Ma tu ti saprei perché sei il figlio del patriarco! No, perché è giusto! Ma perché è giusto! Ma perché è giusto! No, ma perché... Se era lui e era un altro... E allora, insomma, io sono il giusto! E quindi io mi devo salvare! No, patrilla, ma io faccelo con lui che non lo posso vedere proprio! E arriverà la fine del mondo in 80 giorni! 40, ma 40 giorni! Quello è il giro del mondo in 80 giorni! E comunque a me è stato dato un compito! Devo salvare tutti gli animali! Salvare la mia famiglia e salvare me stesso! Sì, sì, ma non è che... E se non mi è stato detto niente di voi... Allora vuol dire che... E allora vuol dire che... Vuol dire che voi proprio... Proprio voi! E dove cosa sta a dire di... Adesso arriva il diluvio e nessuno sa più nulla! Tutti quanti bravi, tutti quanti buoni su questa terra! È vero! E voi le avete fatte le schifezze! 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 E pure voi! E pure voi! E pure voi! E pure voi! Guarda, tu pure se non eri figlio del patriarca ti salvavi lo stesso guarda! No, solo la mia famiglia! No, quello che corno che tiene! Si imbarcavi insieme ai cervi, si imbarcava! Solo la mia famiglia! E il corno che imbarcava insieme e dice... Fatemi salire, padriera, fatemi salire! Non è possibile! Non posso, fatemi salire! Non posso, non è possibile! E non è mica la fine del mondo! Padriera, fatemi salire! Io sono un bravo ragazzo! Voi siete una brava persona! Io sono un bravo ragazzo! Sono una... Fatemi salire! No, no! Voi! Voi! Siete fidanzato? Sì! Fidanzato? Sendo vino mi fate salire! Ma come? Siete fidanzato, sì o no? Sì o no? Sì o no? Aspetta una risposta! Aspetta una risposta! Siete fidanzato? Sì o no? Voi rubate! No! Voi rubate! No, guardate, ho avuto occasione! Ma hai rubato! Mai! Non è possibile che ho rubato! Perché non è proprio possibile che... Che ho rubato che... Facciate gli occhi chiusi! È peccato! E si capisce! Sempre con gli occhi aperti! Sempre! Tutte le volte con gli occhi aperti! Vi truccate! Nooo! Gli occhi chiusi! Allora vedi che ci sono gli occhi chiusi! Non mo sei guardate! Non sono mo sei! Non mi tocco gli occhi chiusi! Con chi me la fate? Con chi me la fate? Con chi me la fate? È peccato! È dipendente! Non mo sei guardate! Non sono mo sei! Sono tutto sudato! Sono tutto sudato! Con chi me la fate? Con chi me la fate? Tutto sudato, sì! Con chi me la fate? Cioè con chi me la fate? Voi mi fate salire? Con chi me la fate? Con chi me la fate? Con chi me la fate? È tutta una comitiva che... Tutti giovani, no? Tutti ragazzi, tutti quelle cose che si dicono Quando tutti tipo dicono Tutti giovani dicono Allora andiamo a ballare No, loro! Loro vanno a ballare! Mai! Io mai! Dico sempre no! Io preferisco stare qua perché voi voi! Oh, loro vanno a ballare! Io mai! Perché tutte le mattine io mi alzo Vado a lavorare! Sì, vado a lavorare io! Vado... È peccato? No! Peccato! E comunque io vado a lavorare Tutti giovani con chi me la fate? Tutti i ragazzi, ragazze! Allora ci sono pure le ragazze! No! E voi! No! Con tutte le ragazze! Con tutte le ragazze! Voi! Con tutte le ragazze! Ma una la fidanzata proprio! Ma una mica tutte le ragazze! Ma la fidanzata! E voi? Con la vostra fidanzata? Normalmente? Normalmente ma normalmente... Insieme! Insieme? Insieme! Mica insieme! Ho detto insieme! Mica insieme! Voi! Con la vostra fidanzata! Normalmente insieme! I normali rapporti! I normali rapporti insieme! Mica insieme! Insieme! Ma che ho detto insieme! Anche in quei giorni eh! No dico voi! Con la vostra fidanzata! Normalmente! Anche in quei giorni! Cioè dico voi! Con la vostra fidanzata! Normalmente! Anche in quei giorni! In quei giorni! Ma non lo so! Guarda facciamo così! Ma vi dico tutti i giorni che facciamo! Decidete voi! Allora il lunedì! Ma che il lunedì! Voi mi dovete dire sì o no! Cioè io... Volete dire sì! Ancora no! Allora volete dire no! E allora sì! E allora venga a dire il mondo in 80 giorni! 40 giorni papà! E è un giro del mondo in 80 giorni! Voi siete un empio! Voi! Un malvagio! E io non vi faccio salire! Non vi facciamo salire! Vi lascio giù! Vi lasciamo giù! Voi andate bene! Andate bene! Voi siete i giusti! Siete giù! E partì io resto qua! Resto qua ma io qua so bene! Eh qua io mangio, bevo! Eh stanno le femmine! Sacco di femmine qua! 10, 20, 100 femmine! Eh sì sì! Ma scusi! 100 femmine! 100 femmine! Eh tutto io! A volte pure 200 è il capitale! Eh questo è vero! Scusi! Ma c'è anche le foto per caso? Ecco tutte le foto! C'è anche le cose! Ma io sto bene qua! Scusi! Scusi! Salite con noi sulla parte! No salite! Stiamo scherzando! Ci raccontate tutto dall'inizio! Tanto abbiamo neppi! Abbiamo 80 giorni! 40 papà! 40 giorni! E' un giro del mondo in 80 giorni! Salite! Salite! E' un giro del mondo in 80 giorni! 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 E' un giro del mondo in 80 giorni!